Buongiorno, sono Franco Giovanazzi di Domoticaria, di Sera, Trento e ci occupiamo di Home and Building Automation e siamo venuti oggi per il secondo anno all'University Day per confrontarci con i nostri concorrenti ma anche collaboratori e per conoscere le novità che Crestron propone durante l'anno. E trovo che queste giornate siano veramente importanti ed efficaci per avere degli spunti, diciamo, per essere più aggressivi sul mercato ma anche trovare delle soluzioni tecniche. E soltanto confrontandosi con i nostri colleghi sostanzialmente e con il fornitore direttamente penso sia l'unica strada buona per raggiungere ottimi risultati.